andiamo 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 dove vai? eh? questo è il mosaico bello peccato dove stai? ma che stai a fa a giocare? ma va finita da giocare eh? andiamo io devo pulirsi eh? mi posso stagliare a te eh? c'hai sedi? stai a bevi? eh? bevi? stai a bevi? eh? stai a bevi? hai tanta sedi? eh? che stai a fare? eh? sul divano nooo scendi giù giù dai andiamo fuori andiamo? andiamo? che stai a fa? mi rovina il divano eh? che stai a fa con quell'unghiette? quando viene Sonia quando viene Sonia a fare i tuoi quando viene Charlie allora andiamo via dai nooo nooo dove vai? vieni qui oh che stai a fa la? eh? che stai a fa lì? puoi entrare al cammino stai a andare eh? che c'è? che c'è? che c'è? che c'è? eh? che c'è? che c'è? vai? mmm! basta con sto divano eh? eh? Grazie.